La funzione di allarme degli angoli morti segnala al conducente un veicolo che sta transitando nella stessa direzione nell'area dell'angolo morto della vettura. Una luce a LED si accende nel retrovisore esterno corrispondente. Se si aziona l'indicatore di direzione, la spia LED lampeggia. È possibile attivare il sistema dallo schermo multifunzione. Grazie a tutti.